chi sei? ciao ma sei iron? iron rizzo? si che ci fai qui? mi so se... eh? che ci fai qui? un vino... ma dove sei? ho voglia di te dove sei? all'ospedale no ma ti sei fatto una bua? che ci fai in ospedale? un video! ma non puoi rimanere questo non è il tuo video è il video del botte io sono sempre nel video del botte ah no che ci fai in ospedale? che ci fai in ospedale? che ci fai in ospedale? ti fai in ospedale? Grazie a tutti.